Ciao a tutti i quali sono Mario Dello, ci siamo qua in questo nuovo video per fare un test con la moto 110 vall'automatica la moto è davvero divertente, ci siamo nell'area motosport per fare questo test comunque se volete iscrivetevi al mio canale youtube, comunque adesso vi lascerò la clip video Ciao a tutti, adesso siamo qua nella clip che vi ho detto prima adesso siamo in fase di scaldaggio bombe questo qua è molto divertente a parer mio però i primi giri hanno scaldato bene le gomme hanno scaldato bene le gomme il grip è già abbastanza buono, infatti come vedete sta riuscendo già abbastanza a piegare toccando il cartello al ginocchio non è male non è male adesso dobbiamo iniziare a fare abbastanza sul serio non è male è lesser staccatone vi ricordo di iscrivervi al canale se volete video come questi e attivare la campanellina wow è benata Azzurata 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 I tempi oggi non saranno formidabili Perché la vista è un po' fredda Non ho ancora girato nessuno Comunque il mio record è 1.12 in questa configurazione Abbiamo un po' fredda Grazie a tutti. 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 Test finito, davvero divertente. Se volete sapere dove è la pista è in via Borgo-Francone a Colico. Davvero una bella pista. E niente, se volete iscrivetevi al canale e se volete altri video così, ci vediamo per subito.